Signori benvenuti e bentornati su crash Allora, siamo arrivati qui Arca... cioè no vabbè Ragazzi l'avete visto tutti Non è normale la roba del genere Arca di ne... Allora Allora Eh, devo tirarli pin qua Eh, vabbè dai Eh, vabbè dai Difficilissimo Sì, vabbè mi fanno un mazzo Mi fanno un mazzo che non finisce più in due così Dai Solo che ho bisogno di uno di loro Solo che io sulla lava non posso andare Veloce crash Sono morto 50 anni No, non so se vi rendete conto No, no, no crash Cut, vieni Cank No, vabbè Vabbè amici Allora, aspetta Opzioni Posso vedere i comandi da qualche parte Ruota, levetta, no, di vista Prima di comanda per l'attacco pesante Adesso va Ci alleniamo un secondo Ah, game over? Da dovevi far iniziare Episodio 7 Ok Quindi nel secondo posto Per premi Ruota la levetta analogica a sinistra E premi ripetutamente comanda All'attacco leggero Vabbè Mi ha ammazzato Però ci sta Però almeno abbiamo capito Il Il messaggio Ma porca Giuda, porca Porca È incredibile Amici Prendilo subito Ho salvato Oh Gesù ti ringrazio Gesù ti ringrazio Basta È stato difficilissimo Giuro su dio Scusami Ok, adesso si ragiona Questo attacco è devastante Sto moriranno tutti Poco per volta Poco per volta Questa cosa si fosse bloccato Mercello Non è stato molto No 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 L'ho fatta No 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 Basta ragazzi Facciamo Poi Facciamo così Ah Se vanno nella lava Muoiono loro Va bene Questa cosa L'abbiamo già vista Sul piedino A zero risoluzione Ok Fai il bravo eh Tanto non mi servì più Tanto non mi servì più Tanto Così almeno Possiamo andare qui Ho preso Tutto Me ne vado Via subito Via subito Ragazzi Tanto non ci serve altro Che Mi Grazie Понятно Che 散其 Ma Mi heure Sì usa ministra La mia domanda è Come arrivo adesso là? In modo così proprio Eh, ho dovuto sacrificare un po' di vita Per fare questa azione, amici Però queste qua ci servono come il pane Ricordiamoci allora con il blocco Possiamo rompere lo scudo Tramite l'attacco caricato pesante Non pensavo se porca Brillante E dai 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 Iniziamoci questa pesante Unica, unica, unica Unica, unica Unica, unica dammi questo scusami ma è ritardato ah queste qua sono le vite si sono riformiati un po' lì voilà salviamo adesso abbastanza facile c'è tini tiger c'è tini tiger crash sono proprio arrabbiato con te io cerco di fare il mio lavoro e tu combini un sacco di pasticci mi spiace ma dovrà mangiarti la testa davvero mi spiace moltissimo vorrei che fosse possibile una ricontigliazione ma francamente ce l'ho ancora che carino non mi hai nemmeno invitato che offesa farà compa ok oh finalmente siete arrivati ragazzi ottimo grazie per essere venuti madonna vabbè ragazzi è impossibile io in due così questi qua veramente non ce la faccio non riesco proprio a colpirli no vabbè però fanno dei colpi incredibili no salviamo da qua così almeno possiamo farlo più volte possibile sì vabbè ai proviamoci da qua perché ho quattro vite e devo ricominciare il livello ragazzi meno male che c'è Gesù Gesù Giuseppe Maria amici che casino in due questi qua sono un disastro ok ok ah va bene ragazzi no 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 si cresce non andrà a finire tanto bene ce l'ho fatta ce l'ho fatta scusami toh toh andiamoci lui che è più fresco toh speriamo che ci ricarichi la vita non del titan ma del meschino sei terribile meschino Gesù lo sa viene una morte estra morte toh toh ci prendiamo lui e voilà tini tiger dovrebbe essere lui no tini tiger quei tini si chiama tini non lo so aiuto mi stanno attaccando ma che c'è così ti taglio la strigionina voilà voilà ogni tanto brasa un colpo eh anche se credo che magari mi ha colpito lo stesso qua mi sembra come lo colpisco io cattivo l'assù allora controlliamo meglio ah io da qua adesso ok ok ottimo ottimo come prendilo bellissimo no no yes adesso mi serve qualcuno a buttare giù la porta vediamo se riesco con questo a buttarlo giù non faccio niente minnaggia la patata non voglio fare di mirare di più qua scusa no oh ma questo attacco è devastante allora eh scusa guarda che roba ragazzi 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 me ne vado me ne vado per forza me ne vado non posso star qui non posso passare scusami scusami che botta a noi due yes prendiamo lui velocemente ce ne andiamo verso di là toh la parata è più veloce questo eh toh che beggin del bus conce parte vedi di correre frate vedi di correre che qua va giù il mondo mi stai facendo arrabbiare ok oddio 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 quanta quanta tensione sì vabbè ragazzi ma qua è sul filo del rasoio dai non è possibile smettile di fregarmi non mi fa bene ok 18 minuti cattive cattive vediamo vediamo un po 47 salviamo qui sì sì continua continua la storia episodio vita da spiaggia vita da spiaggia episodio 8 va bene mi prendo la concia e parte lì e allora non è che adesso arriva qualcosa dal male sì disperazione non vedo nessuno voilà prendiamoci allora la vita è aumentata avete visto è aumentata abbastanza devo dire quasi raddoppiata mi piace che le scarpe sotto questo fiore non so cosa serva qui adesso ci saranno altre altri nemici infatti che carini però che sono eh sono anche più forti sono molto più forti più non è più forti che gli succede alla testa gli scoppia la testa cosa succede che gli si gonfiano tutti per vendire la mela che mazzate che dobbiamo andargli però una colpina oddio prendiamolo subito potenziamento durato scivolata perfetto ma le tira dal culo non è chiara questa è un po' ambigua come situation è un po' toh giusto Vai una, vai due Una Posso mirare Questo è interessante Con questa Passo oltre Pim, pim, pim C'è da quello a fare lì Ah, butta fuori le classiche cose Classiche che abbiamo già visto Quindi un altro diverso fiore Siamo sulla spiaggia, amici miei Ok, un altro robottino andato Non so quanti episodi Posso durare Se gioco qua, sinceramente Ho un dubbio Esistenziale Non so quanto posso durare Sapete, non credo tanto Perché se non gioco per giovanissimi Potrebbe durare anche Che poco, eh Così, goal per due A livello così Siamo a 197.000 già, eh Opa la la Salviamo Toh, 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 toh Beh, ho smesso di fare questi porcari Perché Vole via Madonna Madonna Che fatica Cos'è arrivato stavolta? A lui Due Prendi lui Con la giravolta così Questi titan questi fanno easy, eh Un fiore molto carino Sono molto una persona brutta Tutti li prendo Sono essenziali queste Prendi lui Bellissimo Goal shot Anche Eh Eh Danna Quanto cosa Ne prendo Ne prendo un altro Perché mi piace ben di più Degli altri Perché è molto più forte Questi cali che vedete Sono io che salvo spesso Non è neanche troppo forte, eh Rispetto alla tartaruga Questo qua potrebbe far Fatica, eh Però mi serve per lui Però è molto più veloce Ok, yes Ho finito prima del previsto, eh Ho durato veramente pochi minuti Ho durato questo qua 200.000 Abbiamo sbloccato un sacco Un sacco di roba Continua Salvataggio completato Non si sa come Continua storia Ok signori Direi che ci vediamo Al prossimo video E vi vediamo tutti a da box